il punto c giustamente paloma viene coccolata dopo averla fatta nel letto ma io sono di parte perché amo i cani invece qui troviamo chiara ferrani nel suo walk in closet ci fa un pitch check in totale gucci un gucci molto differente da quello che abbiamo visto negli ultimi anni che era molto estroso molto colorato molto mix and match qui invece gucci torna al suo vibe di maison storica classica mettiamola così di uno stile di un gusto ricercato questa è una chiara veramente raffinata jeans mocassino horse beat e la classica borsa jackie o che lei abbina poi con questo maglioncino e camicia veramente in un quiet luxury il trend si chiama ora eccola qui la borsa 2800 euro lasciate pure stare a meno che voi non siete chiara ferrani perché guardate timu cosa ci propone stessa identica borsa a 44 scusate 47 euro eccola qui la comprendiamo subito ciao ciao